Bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, video lunedì, video di analisi tecnica, analisi ciclica, i livelli dei prezzi più appetibili per quanto riguarda le cripto, soprattutto Bitcoin ed Ethereum, perché oggi andiamo a vedere Ethereum e poi ho una super super chicca che vi faccio vedere alla fine del video, un'analisi dei dati storici di una serie di mercati che ci possono dare un'indicazione del massimo livello di ribasso possibile per Bitcoin se le cose dovessero andare proprio proprio male anche nei prossimi mesi. Comunque, allora bentornati in questo nuovo video e ho già i grafici dietro per farvi vedere una serie di punti, analizzeremo quella che è l'attuale situazione di questo nuovo ciclo mensile, facciamo il punto sulla ciclica e vediamo un po' quali sono i key points, quindi quali sono quei livelli importanti da tenere monitorati che potrebbero far scattare la cosiddetta scintilla su il mercato delle cripto. Nel video di ieri abbiamo analizzato le top 5 per giugno, già oggi stanno andando abbastanza bene contro Bitcoin e soprattutto Tetaave, ieri invece Solana ha fatto il boom e va bene così, però ricordatevi sempre che è il redocet in questo caso, quindi se le cose si mettono male per quanto riguarda Bitcoin, poi probabilmente ne risentono tutti i mercati prima di andare avanti, però io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi lasciatevi il super pollicione, come sempre mi aiutate ragazzi, sono molto contento anche di vedere che i video relativi alle coin la domenica vanno stra bene ragazzi e mi piace tantissimo anche con voi confrontarmi, perché nei commenti mi avete scritto 2000 coin da andare a vedere, alcuni sono veramente interessanti, mi piace molto quello che mi avete indicato, quindi probabilmente focalizzeremo alcuni video anche su quello, quindi continuate a scrivermi sempre nei commenti del vostro punto di vista, ma perché non facciamo o proviamo a fare un passo avanti, provate a scrivere anche qualche chicca su qualche strategia di trading ragazzi, qualcuno di voi che magari utilizza si trova bene, perché no magari potrebbe essere interessante. Eccoci qua ragazzi, allora se ne è andato l'audio, benissimo, allora ci siamo di nuovo per quanto riguarda Bitcoin, questo è il grafico dell'analisi ciclica, ok, tutto in regola per quanto riguarda la registrazione, andiamo subito a vedere quello che riguarda l'analisi ciclica di Bitcoin e le previsioni per i prossimi giorni. Allora ragazzi, questa, io faccio iniziare il nuovo mensile di Bitcoin, non dal giorno 19 maggio, ma dal giorno 23 di maggio, perché ho pensato che sia più corretto andare a sincronizzare quello che è la posizione ciclica di Bitcoin con quella delle altre altcoin, soprattutto il TH che ve la faccio vedere qui, che ha la sua coda di minimo, quindi il suo pivot di minimo proprio nel 23 di maggio. Siccome tantissime altcoin hanno il minimo il 23 di maggio e siccome Bitcoin probabilmente qui ha fatto solo una shadow, perché poi ha chiuso veramente a prezzi molto distanti da questi minimi, io considero un minimo veramente importante di riferimento, quello del 23 maggio a 31.000 dollari circa prezzi Bitfinex, quindi in questo caso per me il nuovo ciclo mensile di Bitcoin, che vi ricordo durerà circa 30 giorni, più o meno o meno di eccezioni insomma particolari, come fa sempre, è iniziato, secondo me, il 23 di maggio e potrebbe concludersi appunto intorno alla 23 barra 30 di giugno, quindi in quella zona lì, verso fine mese di giugno come sempre. Allora, cosa ci dice la price action relativamente a questo ciclo mensile di Bitcoin? E perché io mi ero preso tempo anche nei video precedenti, la scorsa settimana, sulla candela del mese di giugno, vi ho detto aspettiamo 10 giorni a giugno, perché la questione è estremamente delicata e in effetti, come vedete, giugno è molto complicato, come gli altri mesi, perché è normale che sia così ragazzi, perché probabilmente a maggio abbiamo chiuso il ciclo annuale di Bitcoin, ma questo non significa che da lì si riparte a B, anzi, assolutamente non sarà così, ve l'avevo già accennato, è probabile che la difficoltà del mercato delle cripto possa durare anche nei prossimi mesi, non soltanto giugno. Questo non significa che sia negativo, perché ragazzi, il fatto che i mercati stiano in equilibrio su prezzi che magari non sono i massimi, però sono vicini comunque ad un livello molto ampio e che soprattutto non abbraccino una trend ribassista in maniera marcata, è positivo tutto sommato, perché bisogna tirare in barca e raccimolare poi nuove forze, insomma, per andare avanti. Allora, questi i primi dieci giorni di giugno, io qui ho messo un key point, ho sbagliato, lo devo mettere intorno al 10, eccolo qui. Allora, i primi dieci giorni di giugno sono importantissimi. Il mercato, come sempre, sta facendo in questo momento delle barre di congestione all'interno di due livelli estremamente rilevanti che io potrei anche indicare come livelli di buy price e sell price per quanto riguarda le operazioni di breve di Bitcoin e sono 34.000 barra 35, 39.000 barra 40.000. Allora, questi due livelli, queste due zone, sono sell zone e buy zone, ok? Chi sta facendo in questo momento il ping pong, cioè sell o sell short, per esempio, qui, anzi, ragazzi, vi faccio anche una richiesta. Chi di voi vuole sapere come poter utilizzare lo short selling per operare sul mercato, facciamo un mini sondaggio nei commenti, scrivetemelo nei commenti, se vi interessa. Io, come sempre, ho un progetto di fare questo video in settimana e quindi vi chiedo cosa ne pensate. Short selling vi interessa? Sì? No? Barra via! Tutti nei commenti, ok? Allora, questa zona qui è un eventuale short selling, poi un buy, poi uno short, poi un buy, insomma, ragazzi, la tecnica del ping pong, ok? Questa cosa solitamente non dura tantissimo perché poi ci sono delle inefficienze che si vanno a verificare, ovviamente. Il mercato quindi sarà così, ma poi a un certo punto molto e in maniera estremamente veloce prenderà una direzionalità, ragazzi, sicuramente proverà un break di questa barra di congestione e i primi, in primis, e poi un break, oppure un back di quest'altra barra di congestione come se va verso l'altro. Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere appunto un aumento di volatilità proprio al break di uno di questi livelli, se lo fa verso l'alto da qui e se lo fa verso il basso da qui. Quindi abbiamo dei buy price che sono queste zone basse in versione buy the dip, abbiamo dei buy price anche che sono al breakout dei 40.000, perché al breakout dei 40.000 il mercato potrebbe indicare l'inizio di una nuova fase di trend di breve e in versione long. La ciclica ci dice che qui è iniziato un nuovo ciclo mensile, però ci pone un problemino. Come facciamo a capire se il mercato ha più probabilità di breccare verso il basso o di breccare verso l'alto? Allora ragazzi, in maniera molto semplice, se il mercato va a breccare questo livello verso il basso, il ciclo annuale non è stato chiuso a maggio e quindi il giugno diventa ribassista, come maggio, a quel punto probabilmente giugno chiuderà il ciclo annuale, questo ovviamente ragazzi nel ciclo annuale ci sono 2-3 mesi di spazio ovviamente per la chiusura, questo è normale che sia così. Penso che maggio sia abbastato al mercato, però poi come sempre decidono i prezzi, non noi e quindi bisogna stare a vedere se effettivamente il mercato conferma questa cosa. Però un break dei minimi di giugno, dei 34.000 e quindi poi scusate, insomma anche dei minimi di maggio, i 31, configurerebbe un ulteriore mensile ribassista che a quel punto io lo guarderei come una chiusura annuale sguicciata di un mese. Peggio invece se loro poi nel mese di luglio, a quel punto no. Se invece il mercato va verso l'alto e rompe i 40.000, conferma probabilmente la close del ciclo annuale a maggio e l'inizio di una nuova fase che andremo a gestire. Perciò qual è stata la mia strategia in questa fase? La mia strategia in questa fase è stata quella di mettere dei buy price sulla parte bassa di questa zona che vi sto dicendo. In particolar modo uno è entrato l'altro giorno intorno ai 35 e l'altro invece no perché l'ho messo molto estremo, molto basso per un fake breakout, ve lo dico proprio chiaramente. Sono dei micro ingressi quasi insignificanti, diciamo, niente di che. Perché? Perché ragazzi ancora non mi fido di questo mercato e soprattutto vedo bitcoin estremamente debole per una serie di questioni, anche ieri o oggi non ricordo comunque i miners che hanno venduto una buona fetta di bitcoin negli ultimi giorni non depone bene, sicuramente i miners che devono fare cassa è arrivato a un certo punto quindi bisogna comprendere queste strutture, però i miners hanno venduto più o meno 180 milioni di bitcoin, circa questo ragazzi, non il numero di bitcoin, 180 milioni di dollari in bitcoin e questo significa che nell'immediato futuro non si aspettano probabilmente un ritorno sui massimi oppure avrebbero necessità di liquidare per pagare le loro spese, i loro costi. Però sicuramente sono degli istituzionali, tra virgolette, che vanno guardati nei loro atteggiamenti perché potrebbero nel breve periodo indicarci delle direzionalità, quindi io li guardo solo nel breve almeno i miners. Allora, in questa fase ragazzi non c'è soluzione, quindi buy in questa zona qui se volete rischiare il meno possibile con stop loss immediatamente sotto i 31 più o meno e poi cosa farò io personalmente? Se il mercato se ne risale e mi brecca, questa fascia andrò long con tutto, ve lo dico in maniera chiara, quindi ritorno long con il breve, long con il medio, long con la parte old che in questo momento è flat. Questa è la mia operatività, anche per questa settimana tenete a mente queste situazioni. Diverso è la questione se brecca verso il basso, se brecca verso il basso io avrò queste posizioni di breve che vi ho detto, poi in caso le chiudo, diciamo, in piccolo stop loss, però in questo momento la posizione ciclica ci dice che è possibile una fase di alzista di bitcoin in questo mese. L'unica cosa, l'unico neo è questo massimo fatto nella prima parte del ciclo mensile. Pericolosissimo per gli analisti ciclici perché i massimi fatti nella prima parte dei mesi tendenzialmente poi sfociano in cicli di bassisti e questo è un pochettino delicatuccia come situazione. Poi abbiamo anche una, diciamo, da guardare dei livelli di prezzo che comunque oscillano intorno ai 34 con questa barra che se ne arriva al minimo del 23 che è circa 31. Quindi, ragazzi, qui c'è un po' di volatilità, quindi non abbiamo un prezzo reale veramente indicativo, cioè veramente una volatilità del 10%, quindi bisogna anche considerare che comprare qui e fare trading qui è molto rischioso. Quindi fatelo solo se sapete cosa state facendo e soprattutto se avete la formazione, come sempre, ma soprattutto io non do consigli finanziari. Va bene? Ok, allora adesso vi faccio vedere invece è ETH perché ETH è interessantissima per la sua struttura. Intanto forte, forte contro Bitcoin, molto più forte di quello che anche io stesso mi aspettavo. La domanda in questo caso su ETH è sempre la stessa. Sta facendo l'ABC correttivo con una situazione di A, B e poi C che deve andare a chiudere. Anche qui la risposta la sapremo entro la fine del mese di giugno. Se invece andremo ad avere probabilmente un ciclo mensile rialzista, qui è chiuso l'annuale anche per ETH secondo me ragazzi. La forza delle altcoin mette un po' titubanza in questa fase perché potrebbe essere una forza di rimbalzo. Insomma è rischioso diciamo il mercato perché le altcoin in particolar modo non sono in grado di indicare una strada in maniera estremamente imponente. Però Ethereum negli ultimi mesi, nell'ultimo anno soprattutto, si è fatto carico di un enorme valore per il mercato delle crypto. Quindi secondo me è un po' questo concetto. Cerchiamo di aggiustarlo, cerchiamo di portarlo verso la verità. Perché poi ragazzi al di là dei dati storici quello che è importante è sempre ragionare su come si evolve questo mercato. Quindi la questione legata a ETH che sta andando verso la direzione di essere regina vera delle crypto, bisogna considerarla ragazzi, non è più un altcoin così tanto per, ok? Diventata non come BTC probabilmente, però sicuramente può farsi carico anche di resistere a dei periodi di debolezza di BTC magari non troppo accentuati, ok? Direi così. E finora l'ha fatto. Quindi anche qui la ciclicità dice inizio 23 di maggio, il 30 giorni chiude, il 23 di giugno e la struttura ciclica è più forte di quella di Bitcoin. In particolar modo su Ethereum molto rilevante è il superamento di questo livello, cioè dei 3.000 dollari. Se ETH dovesse breccare questa zona dei 3.000 dollari inizierebbe probabilmente un nuovo trend di breve al rialzo. Poi avrà altre superesistenze, ve le faccio vedere tutte quante in questo video. La prima superesistenza è 3.300, quindi 10 punti sopra. Poi avrà 3.600 e poi avrà i massimi storici a 4.2 circa. Tutte queste fasi sono fasi di forte difficoltà per ETH. Io non credo che nel mese di giugno riuscirà mai a superare questi massimi e credo che non sia neanche salutare farlo per ETH. Penso che la soluzione migliore sia un tentativo di brecchi in questa fase di questa zona per poi andare a chiudere il mensile in questo modo e spostarci tutto a luglio barra agosto per dare nuove indicazioni su dove andare e se questi livelli di massimo potrebbero essere breccati entro l'anno. Ovviamente ragazzi sapete che il concetto è sempre relativo a questa situazione. Allora strategia anche qua per quanto riguarda BTC, strategia di trading secondo me per la settimana, scusate per quanto riguarda ETH per la settimana. Allora sicuramente il breakout dei 3000 potrebbe essere tradato long, assolutamente come su BTC il breakout di questi livelli, ma guardate che differenza, c'è una differenza enorme, il 10% di differenza. Va bene, poi invece una DIP di ETH, mi sarei attento per la volatilità di ETH, la valuterei solo in zona 4000, scusate, 2004-2002, questa zona qui come buy DIP. Probabilmente potrebbe essere significativo un ingresso lì per una reazione. Ovviamente ragazzi, se fate buy the dips, ricordatevi sempre che state rischiando l'osso del collo, quindi solo se riuscite a gestire queste cose. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo promesso alla fine questo grafico. Allora facendo la domanda quanto potrebbe scendere ancora BTC? Se il trend è stato completamente invertito e non siamo in una correzione della fase di alzista, ma siamo in un trend totalmente a ribasso, quanto potrebbe scendere BTC? Allora questa domanda si risponde con questo grafico qui ragazzi. Allora questo è il grafico dei drawdowns di alcuni asset, tra cui gold, stocks, le top stocks dei mercati, a larga capitalizzazione le top 10 e poi BTC. I drawdown, cosa sono i drawdowns? Piccolo interludio, piccolo intermezzo, spiegazione estremamente diciamo veloce. Allora cosa sono i drawdowns? Il drawdowns ragazzi, è il drawdown, è la distanza fra il massimo che un asset raggiunge in un determinato periodo storico e il suo relativo minimo successivo, quindi proprio quello che sta facendo Bitcoin in questo momento, cioè la differenza in percentuale fra il massimo che è stato raggiunto e poi il picco successivo a quel massimo. Vi faccio vedere nella parte grafica in pratica la differenza, la distanza che c'è tra questo livello ed un eventuale livello di minimo successivo al massimo raggiunto. Questo è il cosiddetto drawdowns dei sistemi. Dove siamo? Allora a malincuore, però questo va anche diciamo attualizzato questo discorso qui, giustamente non mi fa di segnare sulle immagini. Allora a malincuore siamo qui, we are here, ok? Quindi siamo a metà strada perché il picco veramente di ribasso BTC l'ha raggiunto con un meno 80 e passa per 100, meno 80, meno 85 prima di invertire la sua struttura. Come vedete invece le strutture di drawdown delle stocks sono in alcune situazioni addirittura anche ben peggiori di Bitcoin, ovviamente solo in alcune situazioni e soprattutto qui abbiamo moltissimi anni dietro le spalle, mentre quello dell'oro è 27 anni di distanza, insomma è qui, quindi intorno al probabilmente 70%. Noi siamo in un drawdown in questo momento tra il 50 e il 60% di Bitcoin. Ora facendo alcune considerazioni potremmo dire che da questi dati BTC potrebbe ancora scendere per un altro 30%, ok? 30% raggiungerebbe il drawdown massimo storico da un picco che la crypto ha avuto. Questa cosa però è anche da considerarla come estremamente difficile perché? Perché probabilmente un drawdown di BTC così importante è stato fatto negli anni in cui il mercato delle crypto era molto sottile, quindi c'erano pochi volumi, pochi scambi, pochi exchange, pochi istituzionali. Questo è importante valutarlo. Allora la domanda che ci siamo fatti, quanto ancora può scendere? Ha due risposte. Una è quella di natura assoluta, guardando i dati storici, che ci dice un altro 30-35% è ancora possibile storicamente. Poi c'è l'altra risposta, un'altra risposta che è forse più una domanda che è una risposta, con la quale vi lascio ragazzi. Allora è vero che potrebbe scendere un altro 35% però il mercato di oggi non è quello sottile dei tempi in cui ha fatto un drawdown così massiccio. Probabilmente l'attuale meno 50% che ha avuto più o meno di drawdown potrebbe corrispondere al meno 80% degli anni che furono? Questa è la vera domanda e quindi potrebbe aver già fatto la sua correzione perché dobbiamo considerare anche il fatto che Bitcoin è veramente molto più capitalizzato e il mercato cripto è molto più importante rispetto a prima? Questa è una bella domanda, estremamente complessa per tutti quelli come me che amano mettere le cose in discussione, innovare di continuo e cambiare tanto avendo diversi punti di vista. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Per oggi è tutto ragazzi, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!